La Carfagna Sarebbe intenzionata a lasciare l'esecutivo dopo il 14 dicembre, giorno della votazione di fiducia del governo. Da alcune indiscrezioni pare che le motivazioni siano legate ad attacchi da parte di colleghi interni al partito. Sono di questi giorni gli attacchi con il presidente della provincia di Salerno Edomondo Cirielli e con il coordinatore campano Nicola Cosentino. Inoltre prese di posizione di alcuni deputati del PDL, fra i quali Giancarlo Lehrer e le foto scattate da Alessandra Mussolini che la ritraggono mentre era a colloquio con Italo Bocchino, sembra abbiano aggravato ulteriormente la situazione. Il premier Silvio Berlusconi da Lisbona ha chiamato Mara Carfagna per capire cosa stia succedendo in Italia a seguito della notizia delle sue presunte dimissioni. Le rassicurazioni del premier, secondo quanto riferito in ambienti del PDL, sarebbero venute dopo aver ascoltato le parole accurate del ministro che avrebbe espresso amarezza per quanto accaduto sulla vicenda rifiuti. Il premier avrebbe inoltre raccomandato al ministro di non creare situazioni di questo genere in una fase così delicata della politica nazionale. E nel mondo politico non sono mancati messaggi di solidarietà al ministro delle pari opportunità. Da una parte Vladimir Luxuria, che ne appoggia le dimissioni, dall'altra il ministro dell'istruzione Germini, che la difende ricordando le battaglie che ha portato avanti.